Purtroppo questo non è stato il mio anno migliore dal punto di vista fisico, in quanto ho subito un infortunio a ottobre più o meno e sto rientrando adesso, quindi non vedo l'ora di poter tornare a calpestare quel campo e soprattutto di essere di aiuto alla mia squadra, che fino ad oggi si sono comportate benissimo, come sapete tutti abbiamo conquistato la Final Four di Coppa Italia, siamo prima in classifica e spero che io possa dare una mano più presto. Il campionato finora sta rispecchiando comunque l'andamento di tutti i nostri allenamenti, ogni giorno si lavora duro e il lavoro sta pagando, quindi cerchiamo di proseguire così, a testa che non basta lavorare tanto e finora è stata la via del successo. Cerchiamo un salto? Allora, io non mi sbilancio mai, però non succede, ma se succede...